Musica Posso vederla io in segreto? Una paletta speciale Mi pare di capire, allora fate molta attenzione amici Perché Loretto Print E' tornato alla grandissima E' tornato alla grandissima Guardate a Rui Rui comincia che cos'ha? Cos'è la paletta? No, la paletta è speciale Per il semplice motivo Siccome hanno giocato solo in quattro Abbiamo giocato la Juventus Ieri col Bologna E oggi il Livorno col Milan Il Milan ci avevano detto Il signor Gagliani, l'imperatore In settimana ci ha detto Sono assolutamente fiducioso E' iniziata la rimonta E' iniziata la rimonta Adesso torneremo nuovamente ai vertici E invece la rimonta stasera è iniziata Allora io ho pensato Di raffigurare il momento del mio Insieme a Loretto Print Con te chiaramente Perché tu poi le farai una su di me Stringiamo su Chirico ecco Io direi che Siccome ti ricordi quando tu facevi La Tartarugentus Mi hai copiato Mi hai copiato Sì però A questo punto io ho pensato Qual è l'animale La bestiolina con cui possiamo raffigurare il momento Un pochettino così Del Mina La tartaruga E allora Il tartaruga Il tartarugio Il tartarugio E' bellissimo Guardate anche l'espressione Particolarmente Come c'è un passolito Che l'animale più lento È la tartaruga Però bravo Ma vabbè Avvicinati Avvicinati Perché veramente È una tartaruga La tartaruga È meglio Con un ruio molto cigliato È il suo momento È il suo momento Possiamo stringere ancora sul faccione di ruio Questo è un ruio veramente È uguale È uguale È uguale Questa qui è la paletta Con la quale io stasera indicherò La classifica Con la tartaruga Allora Colta